Il bilancio dell'incendio è scoppiato in via Addis a Sassari di 5 persone intossicate accompagnate al pronto soccorso dei sanitari del 118 a causa dell'inalazione dei fumi. Le fiamme che si sono sviluppate prima delle 11 sarebbero partite dal quadro elettrico generale posto nell'androne della palazzina di Cinque Piani che è stata successivamente evacuata ma che non avrebbe subito danni strutturali. Saranno le indagini delle forze dell'ordine a stabilire cosa sia accaduto e per quale motivo i contatori dello stabile siano andati in cortocircuito. Pare infatti che il quadro elettrico fosse nuovo, sostituito da poco. I vigili del fuoco hanno operato con 16 unità all'ausilio di 7 mezzi tra i quali due autopompe e un'autoscala. Numerose le ambulanze accorse sul posto. Le operazioni di evacuazione dei residenti che hanno coinvolto 32 persone, due delle quali con problemi di deambulazione, sono state soccorse dalle prime unità dei vigili del fuoco arrivate in via Addis. Le condizioni delle persone ferite sarebbero comunque buone e appena i medici lo riterranno opportuno potranno rientrare nelle loro abitazioni. Grazie. 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 Grazie.